Ciao a tutti, secondo video dedicato all'elettrostatica. Avevamo concluso il video precedente parlando degli ioni, quindi dei cationi, ioni positivi e degli anioni, ioni negativi. Adesso parliamo della tendenza che hanno i corpi ad acquistare o accedere elettroni che dipende dalla loro struttura atomica, quindi parleremo dei conduttori e degli isolanti. Eccoli qua. Quindi conduttori o isolanti detti anche dielettrici. Quindi iniziamo con i conduttori. Allora, i conduttori sono materiali dotati di cariche elettriche che possono essere semplici elettroni o ioni, quindi atomi o molecole, che sono libere di muoversi. Sono in generale i conduttori formati da atomi che hanno uno strato elettronico più esterno, nello strato elettronico più esterno, un numero di elettroni inferiore a 4. Allora, il legame tra questi elettroni e il loro nucleo è reso meno intenso dalla presenza di stati elettronici sottostanti. Quindi esistono degli strati elettronici più vicini al nucleo, quindi quelli più esterni, che sono il numero inferiore a 4, sono abbastanza deboli. Quindi questa debolezza del legame col nucleo fa sì che questi elettroni possano lasciare facilmente l'atomo di appartenenza e quindi divengano elettroni liberi o vengono chiamati di conduzione. Quando più atomi si avvicinano o vengono avvicinati, ciascuno di questi atomi cede o acquista elettroni nel tentativo di raggiungere la stabilità, riempiendo lo strato elettronico più esterno. Oppure, ad esempio come succede nei metalli, condivide i propri elettroni più esterni con gli altri atomi, quindi c'è o una condivisione degli elettroni più esterni o un passaggio di elettroni da un atomo all'altro. Quindi l'insieme di questi elettroni formula una nuvola che avvolge gli atomi coinvolti. Quindi questo tipo di legame prende il nome di legame metallico. Ricordiamo che i metalli sono i conduttori per eccellenza e devono questa loro proprietà al grande numero di elettroni liberi che appunto caratterizza questo legame, quello che abbiamo chiamato legame metallico, quindi questa nuvola di elettroni che avvolge gli atomi. Quindi altri conduttori sono le leghe metalliche, il corpo umano ad esempio, la terra, l'acqua o i gas ionizzati e anche altri. Bene, passiamo adesso agli isolanti, detti anche dielettrici. Le cariche contenute in questi materiali non sono libere di muoversi. Si tratta in linea di massima di elementi formati da atomi che hanno sullo strato esterno un numero di elettroni superiore a 4. Ecco, l'isolante per eccellenza è il vuoto perché è privo di cariche elettriche. Ma anche altri materiali come ad esempio l'aria, la ceramica o l'acqua distillata, questo è importante, è distillata, sono buoni isolanti, mentre come abbiamo già detto in precedenza l'acqua non distillata è un conduttore invece perché contiene sali e quindi ioni. Bene, parliamo adesso del processo di elettrizzazione di un corpo, quindi come si fa ad elettrizzare un corpo. E lo si può fare per strofinio, come abbiamo già visto nei molti esempi nel video precedente, per contatto oppure per induzione elettrostatica. Allora abbiamo già visto che strofinando un materiale è possibile sottrargli o cedergli elettroni, quindi lo possiamo caricare positivamente o negativamente. Se l'oggetto che viene caricato, per strofinio, è un conduttore, la zona carica si distribuisce su tutta la superficie del materiale. Perché questo? Allora facciamo un esempio, facciamo finta di caricarlo negativamente. Perché quindi tutte le cariche negative si distribuiscono su tutta la superficie? Perché gli elettroni in eccesso, perché appunto è caricato negativamente, quindi ha degli elettroni in eccesso che si trovano sul corpo, si respingono tra loro e quindi essendo liberi di muoversi vanno a distribuirsi il più lontano possibile gli uni dagli altri, occupando completamente tutta la superficie. Se al conduttore vengono invece tolti degli elettroni, quindi lo carichiamo positivamente, quelle rimasti che sono sempre liberi di muoversi e si respingono tra loro vanno a colmare la lacuna che si è formata appunto dagli elettroni che abbiamo tolto e quindi vengono, diciamo così, distribuendosi su tutta la superficie essendo pochi lasciano scoperte alcune cariche positive quindi l'oggetto, il conduttore in questo caso, è caricato positivamente. Bene, vediamo adesso cosa succede caricando per strofinio un isolante ricordiamo che un isolante o dielettrico è un elemento in cui le cariche contenute in esso non sono libere di muoversi quindi se carichiamo per strofinio un isolante proprio perché non ci sono cariche libere di muoversi otteniamo che la carica non si distribuisce su tutta la superficie ma rimane localizzata nel punto di strofinio passiamo adesso all'elettrizzazione per contatto allora facciamo l'esempio di un isolante che si è stato caricato negativamente per strofinio e supponiamo di mettere la parte carica negativamente a contatto con una sfera metallica neutra attaccata a un filo sottile dopo il contatto ricordiamo tra un isolante carico negativamente è una sfera neutra quindi dopo il contatto osserviamo che la sfera si allontana dall'isolante e questo ci dimostra che anche la sfera è stata caricata a sua volta negativamente e quindi i due oggetti si respingono questa elettrizzazione è avvenuta ovviamente per contatto quindi le cariche in eccesso nel materiale isolante si respingono tra loro e quindi passano alla pallina neutra quindi nel punto di equilibrio la carica negativa inizialmente presente sull'isolante viene distribuita tra l'isolante e il conduttore quindi abbiamo i due corpi con la stessa carica e quindi si respingono se invece la sfera fosse stata di plastica quindi un isolante gli elettroni non sarebbero passati alla sfera e quindi la sfera sarebbe restata scarica esempio della vita reale che conosciamo tutti molto bene quindi quello della scossa quando ci avviciniamo alla nostra macchina in una giornata ventosa quindi perché succede questo? perché quando c'è vento l'atmosfera è elettricamente carica perché le molecole d'aria si caricano strofinandosi tra loro quindi per strofinio o per contatto questa carica passa agli oggetti metallici che incontro ovviamente la carrozzeria dell'auto gli pneumatici sono isolanti quindi la carica non può passare a terra non può scaricarsi a terra e quindi invece il corpo umano come abbiamo già detto è un conduttore quindi tocchiamo l'automobile e prendiamo la scossa un terzo modo in cui un corpo può essere elettrizzato è per induzione elettrostatica allora consideriamo un corpo elettrizzato positivamente quindi elettrizzato positivamente e avviciniamolo a un conduttore quindi ci può essere passaggio e questo conduttore è neutro quindi scarico gli elettroni del conduttore sentono la trazione della carica positiva dell'altro corpo e quindi liberi di muoversi si spostano appunto verso il corpo carico se i due corpi non vengono posti a contatto all'interno del conduttore si verifica solo una ridistribuzione delle cariche il conduttore rimane nel complesso neutro ma siccome c'è questa ridistribuzione presenta una carica una parte positiva e una negativa quindi si dice che il corpo carico ha indotto un'elettrizzazione temporanea nel conduttore quindi da qui l'espressione induzione elettrostatica il corpo che causa l'induzione si chiama induttore mentre il corpo che la subisce si chiama indotto se il conduttore viene allontanato dal corpo carico i suoi elettroni tornano a distribuirsi equamente al suo interno e il conduttore risulta scarico in ogni sua parte supponiamo invece che quando i due corpi sono ancora vicini il conduttore viene collegato a terra la terra come sappiamo è un ottimo conduttore a sua volta che è dotato di un numero infinito di cariche libere le cariche positive che si sono create per induzione sul conduttore richiamano dal suolo delle cariche negative quindi il conduttore che riceve queste cariche si carica negativamente questo questo processo viene indicato con l'espressione di elettrizzazione per induzione supponiamo invece che il conduttore sia scarico scollegato da terra e libero di muoversi per esempio appeso a un filo sottile come l'esempio che avevamo già fatto per la per la bacchetta di vetro e la bacchetta di plastica ecco se noi poniamo questo conduttore scarico e scollegato da terra vicino al corpo carico positivamente la carica positiva del corpo induttore attira verso di sé la parte negativa del corpo indotto quindi il conduttore si muove fino ad arrivare a contatto con il corpo carico una volta avvenuto il contatto alcune cariche negative del conduttore passano all'induttore neutralizzando parte delle sue cariche positive il conduttore perde così parte delle sue cariche negative e risulta nel complesso carico positivamente i due corpi quindi conduttore e induttore posseggono a questo punto una carica dello stesso segno e si respingono allo stesso modo in cui accade nell'elettrizzazione per contatto molto bene questo video termina qui la terminologia per quanto riguarda appunto l'elettrostatica ma la fisica in generale è molto molto importante quindi familiarizzate con termini di induttore conduttore eccetera e così sarà più facile appunto imparare e studiare questi concetti bene un abbraccio alla prossima